Grazie a tutti Ecco, lei maestro è stato nominato a giugno da parte dell'attuale amministrazione come direttore artistico del Teatro Mercadante. La situazione che ha trovato nel teatro soprattutto e poi l'emozione, la chiamata da parte dell'attuale amministrazione, come è stata? Io sono stato nominato a giugno, l'emozione che ho provato è stata molto forte perché alla buona età di 56 anni ho ricevuto questa nomina di direttore artistico del Mercadante, l'ho insegnato negli Stati Uniti, sono stato direttore artistico di produzione, ho suonato in tutto il mondo eccetera. Pensavo che l'amministrazione precedente a quella attuale potesse fare delle valutazioni di carattere culturale e artistico e invece così non è stato. Mi sono ritrovato con il centro-destra della passata amministrazione, non quella attuale, che ha fatto un altro tipo di scelte, forse più di carattere politico-partitico che non artistico-personale. Fin qui va bene, io ho continuato la mia attività, del resto io riesco a vivere e a sopravvivere, tra virgolette, insegnando pianoforte principale al conservatore dei pari e comunque la mia vita è andata avanti bene, senza problemi. Quando ho ricevuto la nomina o quando ho captato che questa nomina poteva arrivare, ho cominciato a mettere in chiaro una serie di situazioni, di paletti e soprattutto però di proiezioni propositive che si sono rivelate poi, sto parlando di luglio dell'anno scorso, propositive e soprattutto direi anche efficaci per poter cominciare un nuovo discorso per la città soprattutto. Io ho accettato questo incarico a costo zero, cioè io al momento non percepisco nulla, l'incarico scadrebbe il luglio del 2016, perché l'incarico è annuale, la nomina è annuale, poi vedremo che cosa succederà, però sicuramente le idee le ho avute e ho cominciato a metterle in pratica. Mi sono confrontato con un'amministrazione sindaco e assessore alla cultura, sicuramente poco partitica, è molto elastica e determinata dal punto di vista della individuazione degli obiettivi culturali e quindi abbiamo fatto delle cose, abbiamo fatto una programmazione e la stagione teatrale il comune di Cerignola la prende in partnership con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, viene a suonare Fabrizio Bosso il 16 aprile e Fabrizio, Fabrizio penso che Cerignola non sarebbe mai venuto, però ho avuto il piacere di elaborare questo contatto. C'è stato uno splendido concerto di Ray Barami e di Danigorea. Di mercoledì sera il Teatro Mercadante era quasi pieno per un concerto dedicato a Bach. Questo stesso concerto è stato comprato tre giorni dopo dal comune di Foggia che realizzerà il concerto l'8 aprile al Teatro Giordano. Cioè è una delle rarissime volte in cui non è Cerignola a tentare di imitare i paesi vicini o i capoluoghi di provincia, ma accade il contrario, tant'è che c'è gente che viene ai nostri spettacoli, soprattutto ai nostri concerti e spettacoli teatrali, viene dai paesi vicini, cioè noi che siamo rappresentativi di noi stessi. C'è una rappresentatività finalizzata all'autenticità dei valori e dell'idea di un cambiamento, di uno changement che deve essere straordinariamente forte e determinato. Nelle stagioni precedenti non si sono mai visti personaggi che hanno comunque frequentato questo teatro, come questa stagione voluta da lei fortemente e dall'assessore alla cultura, ricordiamo l'assessore Giuliana Colucci. Quanto è importante insegnare la cultura, o più che altro non insegnare, diramare i verbi della cultura qua a Cerignola? Il teatro precedente deve rimanere, anche quando noi tra un po' di tempo non ci saremo più, deve rimanere realmente il luogo, sto parlando per me stesso, un luogo di cultura straordinario. La cultura è portatrice di benefit interiori, spirituali, direi addirittura psicoemotivi e relazionali, se non addirittura proprio filosofici, proprio nel senso di transito, di cammino di energia. Ne è una riprova il fatto che un pianista iraniano viene in Italia, diventa uno dei migliori pianisti italiani, rimane in Italia, si sposa con un'italiana, è uno dei migliori interpreti di Bach al mondo, e lui suona Bach, un autore tedesco, ma non un europeo. Insieme a tutto ciò che è imprenditoria, che è energia economica, eccetera, eccetera, la cultura deve essere il faro, deve essere la luce, la lampada che si accende, e soprattutto nella città di Cerignola, visto che sappiamo i trascorsi, i mascagnani e tutto il resto che noi possiamo dire. Dobbiamo continuare molto su questa strada, io sono contento di averla intrapresa, quindi dal punto di vista energetico io rappresento l'amministrazione. Questo mi sta bene, anzi mi sta molto bene. E questo cambiamento energetico si è manifestato anche come un'altra appendice della stagione teotrale, con altri tre spettacoli che si chiamano Incanto d'Autore, dove verranno tre grandi personaggi, tra cui Sergio Rubini, Michele Placido e Alessandro Preziosi. La Puglia è stata sempre madre di artisti famosi. Per i giovani che stanno cercando un lavoro, gli consiglieresse di fare un mestiere d'arte, di cultura? Il creativo oggi è un'esperienza difficile, è un terno all'otto. Il creativo significa l'artista, l'intellettuale. Alcune persone sono attori perché sono attori dal primo momento in cui fanno la recita, l'oratorio, perché a sé che dire una parola in un certo modo, la dicono in un altro modo. E' bellissimo perché poi tutto quello che si ha dentro lo si mette a disposizione per crescere continuamente. Ora, essere uomini di spettacolo, di arte, di pianisti, musicisti, di attori, eccetera, rappresenta un'operazione molto complessa. Perché non è solo un problema di studio, ma è anche un problema di quid, di humus, di approfondimento, di scelte, di rinunce, di abnegazione, di sacrifici. Quale spettacolo consiglierebbe di seguire i giovani cerignolani? Io devo dire la verità, può sembrare faziosa la mia posizione, ma io consiglio di seguire tutti gli spettacoli. che siano prosa, che siano concerti. Adesso noi faremo in questa sala, tra poco meno di un mese, delle conversazioni sulla musica, sulla filosofia, sulla letteratura, cosa che non è stata mai fatta. I giovani, ma non solo i giovani, tutti noi, dobbiamo partecipare ad un risveglio culturale. La lettura è energia pulita. È stato provato dai scienziati americani che Mozart, primo su tutti e per tutti, è l'autore che riesce, il compositore che riesce a far bene al cervello. La pluralità democratica sta esattamente nel fatto di accettare tutte le voci possibili. Infatti, nel caso specifico della musica, dello spettacolo, faccio un esempio, un quartetto, un quintetto, un'orchestra, sentire l'olgo, il flauto, eccetera, mettere tutto insieme, confrontarsi, togliere quello che c'è da togliere, metterlo insieme, è quello che ha fatto praticamente Bach nella musica. Quindi la nostra capacità di uomini di cultura deve essere pluralistica, democratica, seria, costruttiva e soprattutto di competenza. Questo è il dettaglio importante. Io spero e voglio ben credere che questa amministrazione intenda, lo sta facendo e credo che continuerà. Intendo continuare in questo percorso forte perché sono sicuro all'80-90% che fra due anni, tre al massimo, si vedranno i risultati di un cambiamento straordinario, veramente straordinario. Fatto questo, però, bisogna rimanere a galla. Perché se poi facciamo come in passato, che le regole del gioco cambiano e cambia tutto e tutto e allora Cerinola tornerà ad essere una volta la patria di Vascaglie, ma si continuerà a occupare di olio extravergine, di oliva, eccetera, eccetera. No, Cerinola deve anche, e bene, occuparsi di cultura. Il dialetto cerignolano. Deve essere anche lì un'opera culturale di recupero della lingua. Credo che il recupero del dialetto sia importante rispetto a tutte le persone che parlano in dialetto, me compreso. Però, però, io credo, credo, ma probabilmente è una mia proiezione interiore che, però vi posso assicurare, non ha nulla a che fare con un'idea fanatica della cultura. Anzi, io credo che Cerinola debba passare attraverso una semantica ed un approfondimento che non è solo di tipo linguistico-memoriale, ma deve essere cultural-memoriale. Ma io preferisco ascoltare Di Salino, Boma, Pisano, Mascani 1, Mascani 2, Mascani 3, Mascani 4, Mascani 5. E potremmo continuare. Perché quella cerignolesità che si vede, che c'è nel dialetto, c'è anche nell'inneggiamo di cavalleria rosticata, c'è anche nella processione di cavalleria rosticata. Qual è? Quella della cultura popolare di quel tempo, quella delle chianghe, cioè le strade che sono fatte di chianghe. Però quello che conta è l'appropriarsi di quello che Cerinola rappresenta come idea globale. La lingua è importante e io, rispetto, sono d'accordo. Però credo che ci siano questi altri valori che possano essere per noi un motivo di riscatto, ma soprattutto un motivo di proiezione. Lei ha ricoperto vari incarichi per tutto il mondo. Ha collaborato anche con la RAI. Qual è l'incarico del passato che lei ritornerebbe volentieri, diciamo, sui suoi passi? Vorrei ripercorrere di nuovo quell'esperienza. Io ho insegnato negli Stati Uniti d'estate storia della musica ai ragazzi che facevano la laurea e i PhD. E questi ragazzi erano tutti figli italiani e ho insegnato storia della musica. Io parlavo di melodrama, parlavo di cose. Io ho fatto vedere a questi ragazzi ma i cavalleria rosticata non so quante volte. Quindi, praticamente, se la dobbiamo dire tutta, io il direttore artistico poi l'ho fatto anche all'estero. forse l'ho fatto più all'estero che qui. Qui, purtroppo, mi hanno fatto arrivare a 56 anni prima di poterlo ricevere in carico. In carico che, tra l'altro, io accetto e conduco con forza non già per motivi di torna conto ma per motivi di grande piacere, di grande gusto, di grande bontonna perché sono fermamente convinto di queste idee. Se Cerignola si fosse ricordata 10-15 anni fa sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio non solo per me, sarebbe stato meglio soprattutto per Cerignola. Attualmente i cerignolani c'è molto chiacchiericcio, diciamo, e non cambiano. Ma Cerignola è sempre stata una città strana perché Cerignola, contrariamente a Barletta, contrariamente a Trani, è una città che non ha dei fermenti di movimento al proprio interno se si esclude qualche spazio dedicato ai club che si riuniscono, fanno la cena, fanno la conferenza, fanno la voce, poi finisce lì. La mia idea, la nostra idea è tentare in tutti i modi di arrivare a questo cambiamento nel giro di qualche anno. Però voglio essere chiaro, per fare questo servono le maniere forti. Serve anche una certa elasticità che per quanto diciamo concerne l'abitudine alla frequentazione del teatro metta in condizioni che gli spettacoli teatrali di prosa, i concerti, le conversazioni, le conferenze, i dibattiti, le lezioni concerto, il teatro a scuola, eccetera, eccetera, devono ogni tanto, ma ogni tanto, cioè cum grano salis, essere puntellati da qualcosina di più leggero, ma non il contrario, mai. Perché se dovesse accadere il contrario significa che non abbiamo capito niente e il primo che lascerebbe la situazione sarei io. È importante un passaggio, quello che accadrà. Quest'anno è stato un anno, non è stato un anno pilota, perché avrebbe dovuto essere un po' di experience, invece è stato forte, è stato significativo. e quindi questo significa che il bello viene adesso, cosa accadrà adesso se vi devo dire la verità, io non lo so. Dal punto di vista strettamente formale il mio incarico finisce il 15 luglio. Tutto il testo non lo so, mi farebbe piacere continuare, però le mie idee sono chiare, ferme. Di fatti, se guardiamo indietro ai 15 anni precedenti, poiché non è stato fatto un certo discorso, ma è stata fatta un po' di aria fritta. Con l'aria fritta si fa la frittata, insomma, per fare un bel piatto di carne ci vuole la Fiorentina. Maestro, noi la ringraziamo per questa intervista e alla prossima. di aria fritta, Grazie a tutti